Ciao amici della recensione, Topolino 3460 con una splendida cover a tema Paperinic che introduce a una nuova storia di Gervasio con questo personaggio. Guardiamolo meglio insieme. Bellissimo il disegno di Andrea Freccero, non solo il primo piano che per me è spettacolare ma d'altronde Freccero penso sia il miglior copertinista in assoluto degli ultimi 5, 6, 7 anni. Insomma da quando forse a prendere i detti da Panini Comics Freccero è stato il miglior copertinista poi certo sporadiche cover qua e là anche di altri grandi artisti ma Freccero ormai fa parte della storia del fumetto bello anche l'effetto del fumo dietro della macchina e anche la casetta dietro un po' anche a ricordare il gadget che sta uscendo che tra l'altro stanno cercando sempre di più di farmi cambiare idea ma dubito che ci riusciranno perlomeno fino ad oggi potrei prolungare di un anno, un ulteriore anno che già l'abbonamento mi scade ad oggi il 14 giugno 2023 quindi mi scadrebbe al giugno 2024 insomma gratuitamente mi arriverebbe l'intero gadget oppure pagando 45 euro a questo link vi abbonerete o comunque avrete tutta la casa completa io al momento lascio stare sono sincero è una pura scelta economica non ho interesse ad averla e con i tempi che corrono 50 60 euro insomma sono soldi non che non lo sarebbero stati già quattro anni fa però a maggior ragione ora secondo me là fuori c'è una città tutto da scoprire i misteri di Vaperopoli molto interessante fra due settimane vedremo questa serie chissà sia piccole o lunghe storie che già Bertone ci dà un'idea anche proprio nell'editoriale concentrandosi con gli ultimi con gli ultimi discorsi l'ultimo paragrafo ma prima di ciò parla anche di ciò che uscirà in questo nel prossimo albo con Bacinelli Gervasio di Gregorio che torna al Topolino Mazzarello Massantuono Macchetto e Intini mentre io sono rimasto veramente stupefatto dalla notizia perché non me l'aspettavo Lord Hatquac il personaggio che io speravo potesse avere una degna conclusione e non come quella che però abbiamo letto settimana scorsa effettivamente torna con Nucci e con Casti e con una storia di Topolino non di Paperino non dei Papri non dello zio quindi attenzione perché un plot twist che non mi aspettavo e qui vabbè Silvia Zicca ecco ci tengo a farvela vedere dovremmo approfittare della più gritta primaverile che sicuramente avrà colpito anche Paperinic per fare una bella rapina già dovremmo molto bella simpatica ce ne va a farvela vedere un po' perché Silvia Zicca io molto spesso la salto a pie pari ma è giusto anche omaggiarla come grande artista come grande ideatrice di queste piccole gag su carta e partiamo con l'inici delle storie piuttosto folto ne abbiamo ben sette anche se ovviamente no scusate sei anche se ovviamente tre sono un pochino più corte e altre tre appunto un pochino più lunghe o di media lunghezza partiamo con Paperinic i giorni di sonore e primo episodio Alex Bertani fu a quanto pare una sua idea insieme a Gervasio alla sua gestione cittatura e i disegni di un grandissimo Emanuele Baccinelli vi ricordate Ray Daccan il personaggio che arrivò a soffiare l'affare del parco divertimenti arrivò quasi ad acquistare il terreno meglio c'era riuscito dalla fattoria di una papera poi dovete anche ripagarlo ora in tutti i modi vuole avere in mano Paperinic e in qualche modo ce la fa un Paperinic piuttosto sprovveduto e senza molte quesiti arriva in casa del nemico con un piccolo in realtà avviso e con l'aiuto anche del tenente Sherry Duck prova ad incastrarlo tra l'altro Ray Daccan vorrebbe togliere la mascherina ma il tenente non vuole ciò e quindi cosa succede Paperinic arriva ad essere incarcerato perché ovviamente il tenente era in qualche modo in combutta con Ray Daccan secondo valide motivazioni questo è un problema perché Paperinic si sa è Paperino e quindi nel momento in cui Paperinic risulta essere troppo tempo in carcere automaticamente manca anche l'alter ego chiamiamolo reale quello che vive tutte le giornate a Paperopoli ovvero il nipotino Paperino è una storia molto particolare perché Paperinic o meglio chiamiamolo Paperino si trova nelle sue vesti insomma supereroe in carcere senza però mantello senza gadget senza i classici stivali a molla ma solo con la sua mascherina nera che gli prende gli occhi ma del resto ha comunque il carisma e la forza comunque la grinta alla Paperinic e si ritrova in mezzo ai carcerati che in primo momento lo odiano poi arrivano in fretta a osannarlo vi dico subito che lui proverà ad evadere quindi come un vero criminale facendosi aiutare o comunque approfittando di un'evasione altrui non vi dico altro anche se lo spoiler del finale di questa prima parte ci introduce un personaggio che a quanto pare già dovremmo conoscere o meglio che conosce Paperinic ma io non sono riuscito a capire chi comunque ne parleremo direi con le prossime settimane anche perché non so quanto duri quella storia ma almeno due parti Paperinic e la pergamena di Giada Giovanni Di Gregorio e Marco Mazzarello come sempre Mazzarello lo elogio un po perché lo conosco in maniera indiretta uno stile un tratto molto semplice molto classico Disney ecco quindi sicuramente molto gustoso agli occhi una storia di Di Gregorio comunque ho apprezzato ma che si ritrova ad essere un po' delle più classiche perché ci ritroviamo nell'Asia imperiale a oriente quindi nella Paperia centrale epoca della dinastia Kwak insomma il classico stereotipo delle varie dinastie monarchiche imperiali cinesi ovviamente chi è il protagonista in questo caso inizialmente Picco de Paperis che fungerà da servitore al vero re al monarca di trovare qualcuno da delegare dandogli la pergamena di Giada uno strumento a quanto pare potentissimo sanatissimo che permetterà a un possibile detentore appunto di diventare potente ricco bello interessante agli occhi del mondo e ovviamente chi saranno i nemici chiamiamoli competitori contendenti a questo oggetto a essere delegatore del re Paperone insieme a Paperino Gastone e Paperoga ovviamente ci potrà mai essere una storia in cui manca un nemico infatti c'è anche rocker da che tre bassotti quindi la storia mi è piaciuta però segue i classici cliché ovvero Gastone il fortunato Paperoga il saggio il filosofo la persona che non si riesce a capire a comprendere giustamente Paperone quello che non si rende mai e Paperino invece il personaggio che in realtà non partecipa ma è solamente l'aiutante lo schiavetto dello zio ma comunque un Paperino che si dà da fare come sempre un picco dei paperis che cerca di fare un po' da guida turistica per le varie prove da dover svolgere e ripeto rocker tag e bassotti che vogliono arrivare a prendere la pergamena senza passare dal via insomma senza fare tutte le prove una storia che ho trovato piuttosto classica negli incipiti nei cliché tra l'altro i personaggi cambiano nome ovviamente tipo Gastone si chiama Gastong o Paperoga Paperong però insomma a me non peggio nelle sorpiature anche se poi di Gregorio in un'intervista lo dice per contestualizzare ovviamente la storia non ho nulla da dire una storia mediocre bella ben realizzata una buona idea ma per un lettore decennale come me già vista e rivista sicuramente per un ragazzino per un novellino per una persona che nel topo lo legge una volta sì e due no circa potrebbe essere anche una storia piuttosto valida che merita anche di essere riletta insomma però non penso avrà una vita oltre questo albo e qui abbiamo appunto un'intervista piuttosto inusuale perché è una storia che in realtà è la seconda dell'albo solitamente non ha tanto tipo di intervista di questo tipo appunto di Gregorio Mazzarello anche piuttosto folta che non mi aspettavo di arrivare a vedere e di cui sono contento comunque di poter leggere arriviamo poi a sopravvivi con Indiana orientamento e segnalazione di Marco Bosco e Andrea Malgeri questo autore non lo conosco con l'artista ovviamente Marco Bosco sì ed è la classica storia riempitiva che comunque è carina in cui Indiana Pips si rivolge probabilmente a un pubblico un pochino più infantile più bambino a livello anagrafico di l'importanza del sapersi orientare del saper utilizzare la bussola o meglio ancora lo smartphone ma se lo smartphone non potesse prendere o non si riuscisse a utilizzare quali altri metodi si possono arrivare a prendere in generazione e beh questa è la storia in estrema sintesi comunque carina il tratto è anche molto semplice un tratto poco contornato mi piace molto che dà molto risalto ai colori alle forme non so chi sia Andrea Malgeri ma direi promosso poi non so se è la prima o chissà quanta altre volte fumetti muti don't worry I'm happy presenta dentista apprendista perdonatemi questo accento british ma mi è venuto spontaneo soggetto sceneggiatura disegni e supervisione colore di Massantuono quindi fa tutto tranne la colorazione giustamente che sarà affidato a un team di specialisti direi digitale allora io non so bene come spiegarvi questa storia mi è piaciuta partiamo da questa idea Bumbunghini è un personaggio che a me ha stufato mi è piaciuto all'inizio come idea negli ultimi anni l'ho apprezzato negli ultimi tempi sempre meno perché il personaggio è sempre lo stesso non ha particolari evoluzioni i contesti sono sempre loro la storia muta non c'è mai un dialogo se non qualcuno matopea quella Bumbunghini o Silvea che scopre andare dal dentista ma mentre ci va vede uno pneumatico probabilmente io ho ipotizzato che associa il rumore il movimento dello pneumatico un po come al trapano che si usa che usa al dentista per levarti le carie non lo so io l'ho intesa così non vi dico altro mi è difficile commentare una storia muta tanto una storia però per quanto muta troppo dinamica per me le storie mute di faccini per esempio sono molto più tranquille molto più semplici e boh non so come valutarla dare un senza voto ma non per cattiveria ma davvero perché non riesco a dargli una valutazione poi il disegno è molto valido l'idea secondo me pure sicuramente non sarà l'ultima storia ma ne vedremo altre di questo ciclo le apprezzerò in quanto tali senza però strappare i capelli ecco un colpo per due Valentino e Ottavio Panaro segnatura e disegno pensavo che questa storia potesse essere breve in realtà dura abbastanza circa una ventina di pagine una storia che ridicolizza ormai come anni vediamo gamba di legno e sgrinfia due personaggi che ormai sono alla canna del gas perché arrivano senza organizzarsi a intralciarsi fra di loro addirittura insomma io penso che il gamba di legno di gotherson in questo momento non si sia ormai più nella tomba rivoltato ma sia morto e rimorto più volte nella speranza prima o poi di essere rivitalizzato un po' come macchia nera ecco in ultimi tempi macchia nera l'abbiamo visto solamente alle prese di storie di Nucci per esempio che ha ricevuto una nuova caratterizzazione gamba di legno è onestamente troppo stupido sgrinfia non ne parliamo però ci sta ecco per questo è un commento mio da 24 anni decennale esperienza ma ci sta un gamba di legno stupido insomma fa parte del suo personaggio non dà più l'idea di essere un cattivone ormai in estrema sintesi gambe sgrinfia senza mettersi d'accordo vogliono trarre profitto loro stessi senza in realtà appunto accordarsi e senza dirlo l'uno all'altro di andare a recuperare una ricetta particolare di un importante chef fine ovviamente mentre gamba ci prova lui non sa che anche sgrinfia sta provando e viceversa no non dico altro carina ok disegni validi tra l'altro anche molto iconici pochi dialoghi perché di fatto si parla di una rapina non è che c'è molto da dire sono più che altro pensieri e ci sta come riempitiva pure qua seppur lunga è come l'aspettavo più corta ma la promuovo l'apprezzo di paperone e la scelta del cercatore macchetto e intini partiamo dai disegni che sono stupendi grandiosi intini io lo adoro per questo suo riuscire a disegnare i paperi così dolci guardate lo zio sembra quasi un ragazzino eppure ha la sua età insomma sembra quasi un bambinone una persona innocua gentile carismatica insomma invece lo zio una persona burbera avida tirchia no intini riesce a addolcire anche una figura così spigolosa e non solamente lui nipotini chiunque la storia permettetemi però di dire sempre per il discorso che ormai da un po di tempo faccio latita per me perché è la classica storia in cui nipotini cagliano una mano allo zio e lo zio per un motivo lecito comunque è buona la morale che tenisce fuori arriva a narrare una sua vecchia storia una vecchia avventura cui scopo alla fine è la morale che i nipotini devono cercare come ispirazione per un loro tema assegnatogli dalla maestra a scuola solo che a me questa ricerca delle avventure dello zio io non so quante volte ne ho già lette ma penso che un centinaio già di storie ma a dir poco negli ultimi dieci anni dio paperone che parla del klondike sono state a bizzeffe di storie basti pensare anche ai vari diari con i milioni di paperone di vitaliano ma non solo quelli vari diari batte la pesca quella in cui lo zio racconta per carità la morale è bella chi cerca trova senza arrendersi mai mollare tra l'altro andare sempre alla ricerca di un qualcosa che davvero soddisfa senza sopperfugi però non so anche qualcosa dire la storia è molto bella però a me sembra una ripetizione poi i disegni sicuramente sono un punto a favore la narrazione a me pare di averla già letta più e più volte mi dispiace essere critico in questo modo ma sia chiaro non è che dico che macchetto mi pare sia lui no che sia un non valido autore ma l'idea a me sembra riciclata da tante storie e il finale non fa parte dello zio secondo me ve lo voglio dire perché lo zio in qualche modo continua a dire che chi cerca trova fino alla fine e lui pensa secondo questa storia che cercare sia meglio che trovare letteralmente lui era arrivato in possesso di quello che cercava del filone d'oro di pepite nel momento in cui lo trova però si è immaginato il lusso che poteva ottenere e ha cercato però di evitarlo si è spaventato ora si che era più piccolo più inesperto però non fa parte dello zio ecco vabbè lascio lascio stare il finale non mi è piaciuto in questo caso aspiranti paperinic con i bambini sempre protagonisti e poi brividi scusate la nota sanremese ma ci sta proprio al titolo di questo redazionale con i due miei grandi autori nucce casti che danno il preludio alla nuova storia topolino il mistero del museo degli errori di lord atqua quindi una storia che sicuramente ci darà grandi risvolti per un personaggio che io pensavo morto ma che speravo proprio in questo risvolto e tra l'altro marco nucci si farà aiutare da giulio antoni gualtieri che però non viene citato nei crediti non so se un errore di questo screen ma sarebbe un peccato alla fine anche lui un ideatore della sceneggiatura in ogni caso c'è casti c'è nucci per me è una garanzia ormai da anni vabbè casi da sempre nucci da negli ultimi anni questo è ciò che troveremo in edicola la prossima settimana ho saltato un pochino in avanti eccoli qua fattoria mm che comunque recupererò con calma big di paperone sì ho saltato il redazionale sulla casa per quanto apprezzabile ma a me non interessa l'ho letto tutto ma non è che io leggendo un articolo vengo invoiato almeno io perché ho un'idea molto chiara ecco a meno che mi venga regalato io non ho intenzione di ottenerlo sono estremamente sincero coerente con voi però apprezzo l'idea di creare ben otto pagine redazionale anche in questo numero per invoiare tramite immagini tramite articoli e fumetti all'acquisto di questo bel gadget ecco sì lo posso dire il gadget è bello però a me non interessa prenderlo e spendere quei soldi la copertina del prossimo numero ragazzi è spettacolare e non vedo l'ora di possederla un po perché non riuscirei a dire di chi sia in termini di disegno è bellissima forse di polito non penso non lo so potrebbe essere anche cassi stesso boh ma poi guardate i personaggi che ci sono dietro macchia nera gamba di legno plottigat mister vertigo e l'orango il pirata orango che è un personaggio che ha quasi cent'anni quando l'ho utilizzato gotherson negli anni 30 40 è spettacolare questa comparsa e chissà lord hat qua che cosa c'entra in tutto ciò guardate io ho un hype pazzesco per questa storia paperinic di paperone indiana gastone e comic and shines andranno a comporre l'albo che si preannuncia però molto gustoso e poi termina faraci e molinari che dire io un albo che promuovo mediocre in alcune storie quello che davvero mi ha appassionato ovviamente la storia di paperinic don't worry bum happy sembra carina l'idea papering è l'ultima sullo zio a messa di già vista e rivista ma è una mia opinione un colpo per due appunto ridicolizza come già detto un po gamba di legno sgrinfia ma ci sta dai un po di dispensieratezza e indiana non è riempitiva così di cultura che sicuramente adatta a bambini e ragazzini sette e mezzo ecco non voglio dargli l'otto perché quello precedente glielo diedi e secondo me questo è leggermente inferiore vi ringrazio vi saluto e alla prossima ciao ciao ciao